Catania si allarga, Comiso resta fermo. I due aeroporti del sud-est hanno in comune lo stesso gestore, ma gli esiti sono ben diversi. Fontana Rossa vanta numeri che lo pongono al quinto posto tra gli aeroporti italiani, ma è anche vero che l'aeroporto di Comiso potrebbe giovarsi di questa presenza e della modularità, con uno scaro che SAC, socio maggioritario in suo ACO, praticamente gestisce. Comiso per il momento è invece Langue in attesa che si rinuovi il consiglio di amministrazione, mentre a Catania, dove dopo tante vicissitudini, Nico Torrisi si è insediato al vertice di SAC e gode della preferenza di Ryanair, che ha deciso di investire proprio sullo scaro catanese. Di converso nulla si sa dei nuovi voli da e per Comiso e dovrebbe essere proprio SAC a proporre ed elaborare un piano industriale di cui non siano invece notizie. Ryanair ha deciso di aprire cinque nuove rotte da Catania per Berlino, Malta, Milano-Malpenza, Perugia e Trieste. I voli invernali già operativi offrono 13 rotte con il piano invernale che prevede anche un nuovo collegamento per Pisa e voli aggiuntivi per Eindhoven in Olanda. Ryanair inoltre garantirà un nuovo aeromobile per un investimento da 100 milioni di dollari all'aeroporto catanese in aggiunta ai due già presenti. Queste nuove introduzioni e aggiunte permetteranno di trasportare 2 milioni e mezzo di passeggeri all'anno e intanto l'aeroporto di Comiso segna il passo.